Mi ha presentato, io lavoro da 5 anni per Maria D.B., quanti di voi conoscono Maria D.B.? Bravi, bello, no lo dico con sincero stupore perché in Italia si sta facendo un po' fatica a far conoscere Maria D.B., non ci stiamo impegnando molto devo dire la verità, sono un po' da sola a fare questa cosa perché il nostro mercato e la nostra diffusione è un po' più o negli Stati Uniti o nel nord Europa, in Francia, in Germania e in Italia c'è un pochino più di fatica a far passare questa nuova evoluzione di quello che è stato il mondo MySQL. Io oggi voglio parlarvi di alcune cose di Maria D.B., per chi lo conosce, per chi non lo conosce ancora meno, non lo conosce ancora abbastanza, per spiegarvi anche come il database in realtà influenza le prestazioni del vostro lavoro. Cioè, voi fate delle bellissime cose a livello di front-end, a livello di applicazione, a livello di PHP, usate WORPS, eccetera, poi queste cose vanno a toccare dei dati nel database e vi aspettate che vi torni qualcosa. Ecco, questo tragitto può essere costoso e certe volte avere una macchina, un'astronave, come diceva che collega prima, può fare la differenza. Cioè, la velocità in cui il database elabora le vostre query si riflette immediatamente sulle prestazioni del vostro sito. Poi magari voi spaccate la testa per ore a capire per come ottimizzare il vostro codice in modo che i risultati siano più brillanti e magari il problema è da un'altra parte. C'è sempre un po' di problema nel codice, ma certe volte effettivamente può essere aiutata la prestazione dell'applicazione e anche dalle prestazioni del database, su cui alla fine le vostre query vanno a impattare. Io adesso vi faccio un po' di piccola introduzione sull'open source. MariaDB, voi conoscete MySQL, immagino perché MySQL è dietro alle vostre applicazioni e le vostre soluzioni. C'è qualcuno di voi che usa già MariaDB come database di riferimento? Bene. MySQL nasce vent'anni fa, ha compiuto vent'anni la scorsa primavera. Nasce ovviamente come i soliti progetti da garage, quelli che si mettono a fare codice eccetera, in particolare in Finlandia, da due amici, compagni di università che si chiamano Montividenius e David Axmark che iniziano a sviluppare questo database. E la vera e propria, quindi nel 95, il vero e proprio inizio di utilizzo, vero e proprio, diciamo, è anche la nascita della società di MySQL dietro a questo database e nel 2001, quando effettivamente c'è la MySQL Corporation viene fondata, anzi MySQL AB viene fondata e poi seguirà la sua storia. La fortuna di MySQL è stata proprio quella di sviluppatori come voi, cioè è nata in quello che si chiama LampStack che probabilmente tutti conoscete, perché scaricando la distribuzione Linux e lo stack ci si trovava MySQL come database open source di riferimento, quindi Linux, Apache, MySQL e PHP. MySQL quindi è stata la fortuna di tutti gli sviluppatori web perché ha consentito di far partire migliaia, se non centinaia di migliaia di start-up a bassissimo costo, a bassissimo impatto, si è potuto mettere in pratica delle idee senza dover per forza uccidersi di investimenti su un'idea che poteva avere una fortuna piuttosto che un'altra. La crescita è stata pazzesca, ci sono centinaia di milioni di installazioni di MySQL nel mondo stimate, nel senso che il conto si basa dal numero dei download che arrivano dai vari mirror, ma poi i mirror si sono talmente espansi nel mondo che è impossibile perdere il conto e poi ci sono quelli che passano, insomma, comunque si vanno a centinaia di milioni di installazioni. Tutto questo è andato avanti fino al 2008, nel 2008 MySQL è stata acquisita da Sun, Sun Corporation ed è stato un bellissimo matrimonio soprattutto per i due fondatori perché hanno portato a casa un bel revenue del loro investimento in tutti questi anni di lavoro, ma la cosa è stata seguita da un altro evento nel 2009, quindi meno di un anno dopo, con l'acquisizione di Sun da parte di Oracle, di cui probabilmente molti di voi sono a conoscenza. L'acquisizione da parte di Oracle di Sun ha avuto un impatto un po' meno neutro sulla vita di MySQL perché era un competitor grosso che acquistava un competitor open source veramente. Tenete conto che MySQL ha sempre avuto la filosofia dell'open source vera, cioè non c'erano feature solo enterprise, c'erano dei tool solo enterprise, quindi c'erano degli strumenti di amministrazione, di monitoraggio, di backup, eccetera, che erano solo enterprise, erano close source e venivano date solo ai clienti enterprise, ma il database di per sé, community o enterprise che fosse, erano i binari non gli stessi, quindi di fatto tantissima gente va in produzione di binari community e aveva un contratto enterprise con Oracle, quindi è sempre stata questa cosa. Nel tempo è un po' cambiata. L'acquisizione di Oracle ovviamente ha dato un impatto invece diverso perché essendo un competitor si è stato per un po' di tempo delle grosse perplessità se cosa avrebbe potuto fare Oracle di un database decisamente, non dico concorrenziale perché gli ambiti di applicazione erano molto diversi, Oracle ha un suo mercato, però comunque era un impatto molto grande. Sicuramente il mercato di MySQL poteva fare molto gola a Oracle entrando con la sua soluzione e rimpiazzando quella di MySQL. Quindi l'acquisizione soprattutto in Europa è stata passata per molto tempo attraverso l'antitrust che ha imposto ad Oracle per cinque anni di mantenere progetti, sviluppo, riunioni con le community, quindi mantenere tutto quello che era il commitment di MySQL e questo è stato fatto da Oracle. Ovviamente nelle misure nei modi che ora l'ho tenuto giusto, però si è attenuto a queste cose e questo è stato un bene perché MySQL ha continuato a crescere, ha continuato a essere sviluppato. Però cosa è successo nel 2009? Che Monti Videnius non riuscendo ad avere con Oracle un rapporto di trasparenza su quella che era la roadmap di MySQL che è sempre stata pubblica essendo open source, lui aveva in mente le sue idee, il progetto era suo, era nato con lui, aveva 50-60 sviluppatori sotto di sé che lavoravano con lui sulla sua roadmap che arrivava dalla community, dalle richieste eccetera, non avendo a che fare con Oracle ovviamente questa cosa è cambiata completamente nei tempi, nei modi e in tutto quello che era diverso da come si era sempre fatto. Per cui lui ha deciso di uscire, quindi è uscito dall'azienda, da Oracle, si è portato dietro credo una quarantina più o meno di softwareisti, tutti quelli del core di MySQL, più il team di ottimizzazione, e ha fondato una società che nel 2009 si chiamava un po' narcisisticamente Monty Program, un po' solo. Un po' narcisisticamente perché tutto il progetto è narcisista, poi tanto non mi sente, perché MySQL che a me piaceva tanto con questo nome, mai che sapeva questa cosa è mio, piccole cose, in realtà è MySQL dove MySQL è il nome della prima figlia di Monty, quindi noi stiamo seguendo praticamente un progetto a gestione familiare, ecco diciamo, war of mine ma molto familiare e quindi la cosa è andata avanti in questo modo, per il bene, nel senso che il concetto è stato, io voglio garantire alla community e al mondo che questo progetto rimarrà sempre open source, qualunque cosa decida nel futuro di fare Oracle, nel bene e nel male, ma io voglio praticamente prendere questo codice e tenerlo comunque all'inizio in un branch, adesso poi come vedremo in un fork, in modo che rimanga proprietà della community, quindi se un giorno qualunque proprietario di MySQL, dovesse essere venduto, cambiato, cambiare, dovesse chiudere questo progetto o chiudere il codice, ci sarà sempre una parte open presente per tutti e questo è stato il primo principio. Monti di solito quando lavora, ovviamente lavora con noi e il nostro sito al momento, lui gira sempre con questa maglietta con scritto il mio software fa girare il tuo business, che è vero, cioè la maggior parte della gente che è in questo mercato sta facendo business sul suo lavoro, quindi per il bene e per il concetto generale dell'open source. Perché ho iniziato questa piccola conversazione su un po' di storia e su un po' che adesso vi racconto ancora? Perché l'open source è un valore fondamentale per la nostra società, questo vuol dire che non viviamo soltanto di filosofia, quindi un po' di business ci deve essere dietro a questa cosa, ma il modo con cui viene fatto è quello storico, cioè noi abbiamo continuato lo stesso modello di business che aveva MySQL nel 2001, quindi stiamo cercando di mantenere finché si potrà. E poi ovviamente il mondo sta cambiando anche su altre cose. Quello che è giusto è che la community, come state facendo voi con WordPress, quindi voi avete ben chiaro quello è il concetto, prenda idea. Noi riceviamo tanto dalla community, ma restituiamo anche molto. Noi abbiamo clienti anche molto grandi, voglio citarvi Booking.com, voglio citarvi Financial Times, voglio citarvi queste aziende che non sono proprio delle cosettine, che ci commissionano degli sviluppi. Noi abbiamo fatto delle feature che sono specifiche per loro, ma non sono mai specifiche per un cliente. Sono feature di interesse che ci vengono stimolate da un'esigenza di un cliente, che noi riconosciamo di essere di utilizzo generale, che copre un'esigenza che può essere decisamente più ampia del singolo cliente, la sviluppiamo finanziata da un cliente, ma la restituiamo alla community. Quindi la prima volta che il package con la nuova modifica viene rilasciato, è rilasciato su GitHub e tutti ne possono godere. Quindi questo è un prendere, un dare generoso e diciamo simmetrico, quindi si dà quanto si prende e questo è il valore che vogliamo cercare di continuare a fare. Che nel futuro ci siano delle feature che sono veramente molto enterprise e quindi servono soltanto magari a Booking.com che fa un deployment di 500 server in 30 secondi perché ha bisogno di gestire un picco di utilizzo, non è una cosa che riguarda la maggior parte degli utenti, sicuramente credo nessuno di voi e quindi su queste cose uno può pensare di targettare delle cose veramente molto enterprise, ma non toccheranno mai l'utilizzo della stragrande maggioranza dei clienti. Voi ne siete partecipi e consapevoli, l'open source praticamente domina tutto il mercato del web, nelle varie declinazioni, nelle varie possibili sfumature. L'importante è questa piccola clausa, deve essere usato, modificato e redistribuito in ottemperanza a quelli che sono gli accordi di licenza, che sono le licenze dell'open source, quindi il barnierdb è rilasciato sotto una licenza gpl e quello deve essere quello che in qualche modo domina. Il nuovo mandato, il nuovo mandato di MariaDB è riprendere in pratica il ruolo di open source nel mondo dei database e quindi, detto proprio banale banale, rimpiazzare MySQL, questo è palese. Ovviamente il valore di MySQL è altissimo e nessuno distingue per merito uno o l'altro, sono scelte. La nostra scelta è prevalente sulle feature e sull'essere open. Qual è la sfida ultima dell'open source che vedrete essere affrontata da MySQL e anche da MariaDB? È quella della sicurezza. Adesso se ne è parlato sempre di sicurezza, quest'anno sembra l'argomento dell'anno, io sono già stata almeno a tre o quattro eventi di sicurezza nel mondo IT dove sembra veramente il piatto del giorno, si parla solo di questo. E sia MySQL, quindi Oracle, sia noi abbiamo investito molto sulla sicurezza nell'ultimo anno, è stata la parte più grossa dello sviluppo. Oracle ha portato una sola soluzione che è solo enterprise, quindi solo per i clienti enterprise. Noi abbiamo portato una nostra soluzione che nasce dalla community, nasce da una collaborazione con Google ed è quindi open source e quindi a disponibilità di chiunque. E questo è di nuovo un'altra delle piccole cose che noi continuiamo a voler fare per la community. Questo è Monti. Monti è il nostro appunto CTO, è quello che ha scritto MySQL, è quello che ha scritto e sta gestendo il progetto di MariaDB dal punto di vista della codifica e questo è il suo statement. Dice che è stato creato proprio per mantenere l'apertura in modo che riusciamo anche a mantenere un passo diverso. Cioè il tempo di inerzia che abbiamo noi nello sviluppare delle nuove feature, essendo un'azienda piccola, relativamente piccola, siamo 100 persone distribuite su 14 paesi nel mondo, con una trentina, 35 sviluppatori su due principali progetti, ci rende abbastanza agili. E anche questo continuo contatto con la community ti consente di portare dentro dei contributi che arrivano dagli operatori della community che facciamo nostra abbastanza in fretta e questo consente dei rilasci più rapidi e con delle aggiunte di feature sempre rapide. Velocemente, l'ho già detto, MariaDB quindi è un dropping replacement. Perché? Perché è nato dallo stesso core, quindi praticamente è partito dalla versione 5 di MySQL e da lì si è mantenuto un progetto di branching, quindi sempre prendendo il codice sorgente di MySQL si sono mantenute le aggiunte, le feature, le nuove feature che sono state sviluppate da noi in collaborazione con la community. Chi è il proprietario del codice? Non è la MariaDB Corporation, che se volete ha una connotazione un po' mista tra il commerciale e il puramente open, nel senso che poi noi softwareisti li dobbiamo pagare. Cioè, è vero, la community ci aiuta tanto, ma qualcuno che coordina tutte le distribution, che fa in modo che tutto sia coerente, che i contributi che arrivano dalla community siano coerenti con i progetti che ci sono in piedi, con altri contributi, siamo noi, sviluppiamo le nostre cose, ma decidiamo che cos'è più adatto ad essere messo in produzione proprio perché è fatto bene, nei termini del fatto bene del codice. Quindi la MariaDB Foundation è il vero proprietario del codice, quindi della proprietà intellettuale, perlomeno della parte che è stata aggiunta, perché una parte della proprietà intellettuale è comunque Oracle. MariaDB Corporation è quella che in qualche modo contribuisce a finanziare la Foundation per gli sviluppi. Quindi c'è questo mutuo, la Foundation è fatta di poche persone, sono pochi sviluppatori, la maggior parte ce l'ha la Corporation, però loro detengono, sono proprio un po' i custodi, le vestali del codice e noi proprietiamo questo. Il grosso nostro successo è stato in questi ultimi anni essere stati presi come adesso database di riferimento per le principali distribuzioni open source, quindi Red Hat, Debian, Suse e Ubuntu anche, ormai hanno sostituito MySQL con MariaDB nel Lampstack, quindi se adesso voi da queste distribuzioni Linux scaricate il Lampstack non trovate più MySQL come database ma trovate MariaDB. E questo supporto delle principali distribuzioni Linux nel mondo nei nostri confronti è stato sicuramente un grande successo per noi perché hanno riconosciuto i valori di cui vi ho parlato finora. Quindi di fatto adesso MariaDB è la nuova M dell'Lampstack. Ci è andato bene che non abbiamo cambiato nome, almeno siamo rimasti coerenti. Come siamo adesso? Abbiamo circa noi come MariaDB, quindi tra Foundation e Corporation, ci sono riconosciuti 9 milioni di utenti basati sempre sui download e quella che ho detto, sparsi più o meno in tutto il mondo. Questa è sempre una stima. Le stime e anche i download sono sempre un po' particolari perché noi per esempio non stimiamo i download dei Lampstack, non abbiamo i conti delle distribuzioni Linux, di quante distribuzioni Linux vengono scaricate, quindi è sicuramente una stima estremamente per difetto. Mi basti pensare che per esempio il nostro conto dei download che arrivano dal nostro GitHub per la stragrande maggioranza sono download di versioni Windows che rappresentano credo meno del 5% delle installazioni di MariaDB nel mondo. Quindi è un po' falsato questo conto. Noi abbiamo un conto proprio di una parte, tutto il resto arriva quasi tutto dalle distribuzioni o dai mirro. Ma SQL ha avuto per anni un po' questa reputazione di essere una robetta. e me lo ricordo anch'io quando ho iniziato a usarlo parecchi anni fa, rispetto ai grandi database sembravano veramente una robetta molto mai, cioè proprio una roba da usare. All'inizio forse poteva anche esserlo, mancavano delle feature in confronto ai database più blasonati e sicuramente delle cose non c'erano e sono state aggiunte nel tempo. Ma SQL è dietro a questi nomi che vedete, che in particolare in questo momento sono i nostri clienti più grossi, sono i nostri marchi più grandi, ma tutti questi stanno facendo girare il loro business con MariaDB o MySQL alle spalle. Non ho più adesso fatto un controllo recente, ma fino a sei mesi fa dei primi venti nomi dei siti web del mondo, 18 usavano MySQL. Quindi tra Google, Alibaba, Flickr, eccetera, tutti avevano dietro MySQL. Wikipedia, Wikipedia lavora con MariaDB, quasi tutti sono basati su questo. Qua è una slide che vi spiega qual è stata anche la crescita e perché continua a crescere. Da una parte ci sono le distribuzioni che hanno scelto MariaDB come database di riferimento e dall'altra parte anche gli operatori di cloud che hanno aggiunto MariaDB ai database di riferimento. Qualcuno l'ha sostituito, qualcuno l'ha aggiunto, come è giusto. Cosa fa la corporation? E questo ve lo dico velocemente, sempre perché appunto i softwareisti non sono sempre tutti volontari o perlomeno sempre solo di volontariato non si mangia sempre, quindi noi paghiamo lo stipendio agli sviluppatori di MariaDB e lo paghiamo fornendo servizi. Quindi la proprietà intellettuale rimane così e noi forniamo servizi a chi li richiede. Quindi non imponiamo costi di licenze, non imponiamo nessun tipo di cosa, però noi abbiamo dei servizi di supporto, di assistenza, un portale per i clienti, facciamo servizi di database amministratore remoto, consulenza, training, facciamo sviluppi customizzati come vi ho accennato prima e questo ci consente di mantenere il finanziamento dell'azienda. Come vi ho detto, tutto open source, tutto quello che era lasciato sotto licenza GPL o l'SGPL come i connettori, il database dei Baki è pubblico, che sembra una cosina poco significativa, invece lo è molto. Questo è stato forse il primo effetto negativo dell'acquisizione di MySQL e da Oracle, che hanno chiuso il database dei Baki. Quindi era difficile capire che cosa era o cosa non era un comportamento che non risultava particolarmente limpido. Invece il nostro database dei Baki purtroppo è aperto e quindi i Baki che ci sono li potete vedere tutti. Cosa abbiamo fatto quando MariaDB è nata? Perché questo è tutta una bella storia, però poi dice qual è stato il vero lavoro che ha portato ad essere MariaDB di Versa di MySQL? Innanzitutto il primo lavoro che ha fatto Monti è riscrivere l'ottimizzatore. Proprio a livello di prestazioni, come avevo accennato all'inizio, certe query, quando spesso, non sto parlando di WordPress in particolare, ma quando derivano da framework, io ricordo ho lavorato con Django per un po', venivano delle query alte così, perché le costruiva ovviamente con dei modelli, qualche anno fa adesso probabilmente è migliorato, però io avevo 740 join e il database incominciava a strozzarsi perché ovviamente quando deve saltare da una parte all'altra incomincia a fare un sacco di lavoro temporaneo per accumulare i dati temporanei per poi rilavorare, eccetera. E questa cosa uccide la CPU, uccide il database, scrive un sacco sul disco e quindi il risultato, certe volte magari non ce n'è meno, cioè quindi a un certo punto arriva che non risponde. Quindi la prima cosa che ha fatto è stato riscrivere l'ottimizzatore e questo è un punto che già potrebbe dare un vantaggio agli utilizzatori di MySQL, come voi, che sostituiscono semplicemente MariaDB e MySQL, perché l'ottimizzatore è decisamente molto più ottimizzato e quindi le query, o soprattutto le sub query, che certe volte non si materializzavano, quindi di fatto finivano per non restituire nulla, adesso nella stragrande maggioranza dei casi funzionano e quindi vuol dire, certe possono anche continuare a non funzionare come non funzionavano prima, soprattutto se sono stato query molto complesse, ma in tal caso mi rallaccio al discorso del collega prima, riguardate la query, forse si può scrivere meglio o forse si può farla in due colpi e arrivare ad avere un risultato invece di aspettare che il database soffra per non magari portare risultati. Ci sono poi tutta una serie di caratteristiche che nella versione di MySQL sono nella versione enterprise che per noi sono invece open source, che invece di nuovo possono toccare gli sviluppatori di WordPress per raggiungere prestazioni. L'altra differenza più grossa è che MySQL ha continuato a mantenere a supporto due storage engine. Non so se voi avete confidenza col concetto di storage engine, Ma MySQL di per sé, proprio come core del database, ha tre cosette. C'ha un parser del linguaggio SQL, c'ha un ottimizzatore per le query, quindi quello che fa poi il query plan che stabilisce dove deve andare a toccare per restituire il record set e poi ha quello che si chiama il vero e proprio engine, anche più di uno. Gli engine sono dove fisicamente vengono contenuti i dati, quindi dove voi, diciamo il motore che crea le tabelle, dove vengono contenute le tabelle. E sono dei plug-in, la struttura è plug-in e questo è un grande vantaggio per MySQL perché consente di avere una scalabilità, nel senso che se mi capitano delle funzioni particolari che un engine non funziona, posso sempre sviluppare un engine specifico che possa farlo. Oracle ha deciso di focalizzarsi sui due principali, uno è MyISAM che è figlio del vecchio metodo ISAM della costruzione dei file indexati e l'altro è InnoDB che è un fantastico storage engine open source, ma è rimasto open source. Noi abbiamo accresciuto le funzionalità di InnoDB in collaborazione anche con Percona che è un altro branch di MySQL e abbiamo aggiunto delle cose, ma noi supportiamo molti storage engine in più, tanti sono veramente specifici e su questi ce ne può in particolare uno che potrebbe essere magari di vantaggio per voi. e altre funzionalità oltre all'ottimizzazione sono anche livelli di replicazione diversa e questo è un argomento che poi vorrei toccare un po' a parte perché la replicazione è un discorso che spesso nelle soluzioni tipo le vostre non è molto toccata e invece secondo me dovrebbe essere di più. Ci sono delle funzionalità io queste slide sono un po' verbose ho scritto molto, non voglio leggerle una io le pubblicherò, le metterò su slide share quindi le avrete utilizzatele un po' come riferimento poi io sono disponibile se avete bisogno di chiarimenti però ho voluto darvi un po' un elenco di tutte le funzionalità anche un po' in dettaglio in modo che possiate farvi avere un piccolo reference da seguire. Una cosa che può interessarvi è la gestione dei dati di GIS di localizzazione che sono gestiti da MariaDB da due o tre versioni fa e questa è una cosa che è stata estremamente gradita dagli sviluppatori. Parliamo un pochino degli storage engine ExtraDB è il transazionale ed è lo storage engine di default per MariaDB e appunto ci sono state fatte delle aggiunte alla versione di origine che è in ODB e soprattutto delle ottimizzazioni anche di percorso e quindi la transazionalità dello storage engine che è lui che si occupa di capire se la transazione è stata completata bene e nel caso faccia rollback se tutto non è andato a posto viene gestita in modo leggermente più veloce e ottimizzato. Un altro storage engine, ecco su MyASM una piccola nota MyASM è stato per tanti anni il database di riferimento per cui se voi avete dei database che hanno qualche anno quindi da 5-6 anni da questa parte credo che sia stato messo di default in ODB da credo un paio d'anni controllate perché MyASM è un storage engine molto efficace ma è fragile e soprattutto non è transazionale cioè rompere gli indici o rompere la tabella non è così remoto e questo potrebbe non essere proprio un comportamento gradevole per voi quindi se avete delle tabelle MyASM cercate di portarle su in ODB è una semplice altertable basta cambiare il tipo di engine che c'è che è menzionato nella create table e questo vi dà più sicurezza sul fatto che tutte le transazioni siano coerenti siano scritte effettivamente sul disco se sono andate a buon fine e non avere mai cose parziali. Sphinx una parola su Sphinx forse voi conoscete Sphinx Lusin questi gestori di contenuti quindi poter fare full text search su dei testi noi supportiamo uno storage engine che è derivato proprio dalla community che è uno Sphinx storage engine e quindi se voi avete delle necessità di fare dei full text search su dei testi noi usiamo l'engine di Sphinx direttamente quindi le ricerche sono decisamente più ottimizzate fino ad ora l'unico modo per fare full text search era avere delle tabelle MyEysam ecco perché vi sto dicendo probabilmente molti di voi avete ancora MyEysam e adesso il Nodb supporta full text search anche lui però il motore di ricerca che ha Sphinx per sé è decisamente più efficiente TocoDB e Connect sono degli storage engine che forse a voi interessano direttamente sono specifici per l'utilizzo di quando ci sono delle scritture massive e Connect è uno storage engine che consente di accedere dei database esterni di qualunque formato possono essere anche i file CSV file di Excel eccetera il thread pooling questo è una feature che MySQL è solo enterprise quindi non trovate nella versione community che scaricate e questo è una cosa da cui potreste probabilmente trarre vantaggio soprattutto se sviluppate in PHP il thread pooling consente di avere molte thread attive allo stesso tempo senza che il database patisca in prestazioni perché viene praticamente tenuto un pool di thread aperte e quindi le connessioni che arrivano dall'applicazione non vengono mai chiuse quindi tutto il tempo di apertura e chiusura viene scartato quindi viene tolto viene eliminato dal processo e questo aumenta sicuramente le prestazioni tutte le open and close di connessione che vengono sul database vengono in questo punto annullate ci sono dei riferimenti su questo sappiate che c'è è semplicemente un'abilitazione che si fa da configuration file da MariaDB basta dire ability to ability to connection pooling e questo viene immediatamente gestito da MariaDB quindi se avete transazioni molte molto brevi che avete parecchie connessioni tutto questo va insistere sulla CPU e sull'accesso questo sicuramente viene riflesso negativamente sull'applicazione il thread pooling può aiutarvi subquery se ne ho già parlato la subquery crash e tutto il discorso di query innestate query con molte join che agiscono pesantemente sulle prestazioni sono state decisamente migliorate dalla riscrittura dell'ottimizzatore di MariaDB group commit questo è una parte leggermente tecnica la commit vera e propria mette in sincronizzazione quello che è stato fatto sulla transazione effettivamente sul database le transazioni che sono eseguite in parallelo sul nodo possono essere scritte tutte quante in parallelo quindi non si fanno sequenze di f-sync ma ne viene fatta una sola che butta tutto quanto insieme questo è di nuovo una riduzione di tempi di apertura scrittura sul disco che sono poi quelle che uccidono veramente tutte le volte che si tocca il disco è un massacro quindi meno lo si tocca e meglio è ovviamente i database più veloci che ci sono in questo momento sono comunque database in memory quindi la velocità della memoria ancora non è stata raggiunta dalla velocità del disco per ovvi motivi quindi tutto quello che riusciamo a fare che ottimizza la scrittura sul disco è un vantaggio per noi colonne dinamiche è una nuova feature anche di MariaDB potrebbe essere di grosso vantaggio per voi perché è una cosa che per esempio viene usata tanto da coloro che fanno e-commerce perché si può definire una colonna che abbia dei contenuti variabili quindi non è fissata ci sono possono esserci delle parti JSON possono esserci dei blob possono esserci delle sequenze di caratteristiche per magari per un modello di articolo colori taglie quello che è e può essere tutto ammucchiato in un'unica colonna con contenuti misti l'online alter table questa magari è un po' di nuovo è una cosa che magari voi non fate cambiare una tabella senza stoppare il database era una cosa impossibile prima bisognava fermare il database e fare la modifica oppure si poteva fare ma richiedeva tempi biblici per questo con alcuni accorgimenti adesso è possibile farla questa è una feature che ad esempio è stata sviluppata proprio per booking.com che ne ha bisogno l'ha finanziata e adesso è stata restituita e non solo è possibile fare questa modifica della tabella online ma io ho anche un andamento la restituzione dello stato di questa modifica online in modo da sapere a che punto sono e l'applicazione potrebbe ovviamente averne bisogno prima di fare alcune azioni proprio sulla modifica in atto GIS vi ho detto adesso si appa l'applicazione di GIS di MariaDB si appoggia su OpenGIS vi ho lasciato qua un po' di riferimenti in modo da potervi indirizzare lì la replicazione chi di voi usa sistemi replicati sui vostri database pochi quindi voi vi basate sui backup immagino per tutto quello che riguarda la vostra integrità e la salvataggio di questa cosa quanto tempo ci mettete a fare un restore chi lo sa quanti di voi hanno dovuto fare un restore di un database fatele fate delle prove di restore ve lo consiglio proprio da mica tutti sono bravissimi da capare io per prima quando hai da fare un restore primo scusate ma sei veramente con le ginocchia che tremano e quindi già rischi di fare il pasticcio solo per componenti motivi perché di solito c'è un casino in atto e quindi grave e poi non l'hai mai provato dovrebbe essere una pratica che si prova tutte le settimane cioè provare a fare il restore anche su una macchina virtuale non ha importanza la buttate via ma fatelo perché quando succede il casino succede e dovrebbe essere una cosa su cui siamo tutti allenati la replica è una cosa che ci consente di avere invece un paracadute cioè avere un server replicato anche virtuale ripeto non avete bisogno di avere una macchina fisica ma avere una macchina virtuale che si prende le repliche del vostro server e mantiene i dati replicati in tempo reale o quasi a meno della latenza tra i due ma sono relative vi darebbe una manovra in più vi basta switchare l'applicazione sulla replica se il master cade e poi vi preoccupate di mettere a posto il master ma intanto l'applicazione su i servizi in piedi e la gente lavora consideratelo come un consiglio della mamma noi abbiamo diversi sistemi di replicazione quindi sono livelli un po' più avanzati per quello che io ci vado velocemente ve li lascio come riferenza guardatevi che consentono di avere appunto modi diversi di replicare booking.com quando ha bisogno di gestire un picco da un master istanzia 500 repliche in meno di 5 minuti 500 server virtuali ovviamente non puoi mettere su 500 macchine però loro lavorano sulla replicazione cioè garantiscono il servizio agli utenti che voi potete pensare quanti sono in un attimo veramente in un attimo e l'abbiamo fatto insieme multistrose replication è una cosa interessante posso avere tanti server con contenuti diversi ma per motivi miei voglio aver bisogno di consolidare da una parte tutto quanto e non un unico database e non un server MariaDB lo consente da tutti i server posso dire replica è un po' l'inverso del master slave molti master indipendenti che si scaricano su un unico server e io ci posso lavorare per avere o un unico backup di tutti i miei lavori in giro per il mondo che potrebbe essere anche una soluzione o anche avere una macchina su cui uso i dati per fare dell'analisi e questo serve clustering soluzioni di clustering ad alta affidabilità sistemi che qualunque cosa succede sui server vengono il failover è gestito in maniera automatica MariaDB si apposa su galera che è un progetto open source di nuovo qua ci sono un po' di punti ve li guardate un'unica un'ultimo appunto sulle cose di sicurezza come vi ho detto noi abbiamo lavorato tanto con quest'ultimo anno con la community e con google in particolare per mettere operazioni di sicurezza anche sui database che riguardano i tre livelli dal firewalling all'authentication quindi alla gestione dei dati criptati non solo dal punto di vista applicativo ma dell'intero database e non solo di quello ma anche di tutti dei file che si chiamano i data at rest cioè quelli che stanno fisicamente sul disco come i log come i binary log come il relay log degli slave eccetera che contengono molte informazioni sensibili del vostro database hanno il nome delle tabelle hanno il nome dei dati quindi anche quelli vanno criptati tutta questa cosa è stata messa in piede da noi ed è open source vi lascio qua un po' di riferimenti qua ci sono tutti i link delle cose che ho parlato io se avete bisogno sono sono reperibile per chi è qua in zona stiamo discutendo con i ragazzi di wordpress di cominciare spesso tutte le volte che avranno piacere voglia di ospitarmi di fare delle piccole chiacchierate anche sui database nell'ambito dei meetup di wordpress che ci saranno qua e vi ringrazio abbiamo spazio per cinque minuti di domande quindi se qualcuno qualche dubbio per prestità è un karma se esiste una soluzione facile quindi molto wordpress like per l'utilizzo di maria db quindi qualcosa che un plugin tipicamente che possa essere installato che oltre a essere un assoluto sostituto di mysql con maria db però prende anche si avvantaggia delle funzioni aggiuntive di maria db in wordpress in questo momento allora se io dovesse sostituire mysql che ho su una mia installazione di wordpress perché poi mysql non dipende da wordpress e lì fa il database quello che si fa è quello che si dice maria db è application indipendent è application compatible quindi se l'applicazione sta usando mysql può usare maria db senza cambiare l'applicazione quindi tecnicamente quello che si fa è backupare il database stoppare il servizio installare maria db configurare giusto dove sono i dati e le cose del my.cnf e quello che è riparto fine del problema cioè a quel punto lì io sto usando maria db i dati sono gli stessi non devo migrare la cosa più pulita di solito è fare un dump del database fare un reload del database in maria db quelli più cowboy come dicevi tu prima vanno direttamente sulle directory di data senza toccare niente io preferisco fare dump per restore certe volte i dump sono anche molto lunghi quindi si può andare direttamente però è vero è proprio drop in di placement tutte le migrazioni da my.sql a maria db non richiedono anche che facciamo da clienti grandi è una questione di quantità non di tempo cioè ogni drop in è semplicemente stoppare servizio backup installo ricarico il database fine e tutte queste funzionalità di cui vi ho parlato sono accessibili certo se voglio usare lo storage engine sphinx devo specificare che le tabelle che creerò o certe in cui io sto tenendo i contenuti con cui lavoro siano di quel tipo lì però il thread pooling si abilita come vi ho detto con un parametro di configurazione l'ottimizzatore è già parte del server perché è parte del core di MariaDB e quindi tutte queste funzionalità sono stato al wordpress forum due anni fa in Amsterdam dove c'erano credo 4.500 persone tanti sono venuti a dirci che solo senza saperne molto di database come è giusto non tutti gli sviluppatori di interfacce sanno molto di tecnica di database ma semplicemente rimpiazzando hanno già visto dei vantaggi in risposta dei loro prodotti l'ottimizzatore fa tanto riguardarsi le query fa tanto se avete degli strumenti di monitor sul database che facciano vedere anche quanto il database soffre per certe query quindi riuscire a scovare se c'è una query che sta effettivamente mettendoci tanto ad essere eseguita dal database questo vi può di nuovo aiutare molto quindi ci sono degli strumenti di monitor open source che lavorano sui database e vi possono aiutare a vedere se per esempio che una query molto pesante ci mette magari cinque secondi ogni volta e la chiamate spesso quello vi ammazza la risposta ovviamente voi pensate che sia un problema di codice in realtà è là che c'è un problema oppure magari una query che sembra innocua perché è velocissima ma guarda caso non vi siete resi conto che viene eseguita un milione di volte in un minuto e quindi poco ma tante volte risposto prego questo è l'ultimo visto che così funziona meglio visto che hai nominato anche per Kona volevo appunto chiedere che cosa accadrà in futuro se si può sapere nel senso questi MariaSquel MariaDB per Kona continueranno come dire a condividere il core oppure ci sarà il rischio che qualcuno andrà per la sua strada fregando non servirebbe a molti devo dire andare per la propria strada nel senso che tutti comunque per Kona ha mantenuto una sua strada molto legata alla storia di Oracle quindi lei continua ad essere un branch loro continuano a fare i lavori di branch poi hanno aperto questa porta a Mongo quindi loro hanno una parte di server che si occupa di Mongo quindi hanno aperto la loro porta sul mondo NoSQL però loro fisicamente cioè tecnicamente sono un branch quindi loro aspettano praticamente Oracle rilasci poi prendono il codice e ributtano dentro le loro cose ogni volta noi a un certo punto abbiamo spezzato questa strada soprattutto perché Oracle ci ha messo un anno e mezzo a fare una versione e noi avevamo troppa roba lì che aspettava di uscire quindi a un certo punto abbiamo preso la nostra decisione quindi la nostra posizione è quella di mantenere le stesse compatibilità di funzionalità che metterà sul MySQL sul mercato quindi se MySQL farà qualcosa di blu lo faremo anche noi se farà qualcosa a righe lo faremo anche noi non sarà lo stesso codice faremo la stessa funzionalità chiamata allo stesso modo in modo che le applicazioni che usano la funzione di MySQL possano usare quella di MariaDB senza cambiare il codice però sarà codice diverso implementativo diverso che cambiano core non credo non servirebbe credo nessuno ottimizzazioni sì feature in più sì il core sarà sempre lo stesso l'interesse di tutti è di mantenerla la compatibilità la compatibilità insomma è quella c'è una base installata talmente immensa nel mondo che ha senso distingue noi ci distinguiamo con i servizi con delle funzionalità ma di più di questo direi di no grazie grazie grazie